Mentre procedono i lavori per approntare entro fine marzo il lungomare di Via Caracciolo per le gare della Coppa America di Vela, il comitato organizzatore della competizione ha stabilito la sequenza delle sfide che si svolgeranno a Napoli dal 7 al 15 aprile. Il programma si articolerà fra regate di flotta, scontri diretti e prove di velocità. Il direttore Ian Murray ha illustrato le novità del formato agonistico che vedrà in ogni giornata di gara tutte le squadre impegnate e nel quale ogni singola regata conterà ai fini del campionato. Sabato 7 aprile la tappa napoletana si aprirà con la sfida fra i fortissimi equipaggi di Oracle e New Zealand, seguita da una serie di sfide uno contro uno con gli accoppiamenti determinati in base alla classifica internazionale di categoria. Domenica 8 le squadre correranno tre regate di flotta di 15 minuti. Dopo due giorni di pausa si riprenderà mercoledì 11 con le qualificazioni per il grande evento di sabato 14, la finale del Match Racing Championship. Domenica 15 infine si disputerà la gara di velocità AC500 in cui ogni imbarcazione si cimenterà in un percorso di 500 metri da percorrere nel minor tempo possibile. Nelle acque di Napoli debuterà Luna Rossa guidata dallo skipper Max Sirena. A partire dall'11 aprile le regate saranno trasmesse in diretta internet su www.youtube.com slash americascap.